no 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 è la grecia ciao ciao è rossatina è rossatina grazie 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 ragazzi venite qua con me siete pronti? uno, due, tre, quattro, cinque ci penso io ci penso io grazie un saluto ai su Luzzi che ci ricordiamo tutti è il grande Ezio e il suo papà si chiama? Paolo ciao Paolo ciao Ezio eccoci ciao grande 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 che cazzo di rossi ma come è grande? ma come è grande? ma come è grande? ma che sta scherzando? ma che sta scherzando? le chinolid i chinolid i chinolid i chinolid i chinolid i chinolid lei le conosce? le conosce i chinolid allora qui abbiamo cose per 600 persone bene qua chinolid bene ragazzi i peperoni bruschi ragazzi i peperoni bruschi e taramma io voglio più in Italia tutto i peperoni questo non viene a fare un piatto vieni, vieni, vieni eccoli eccoli allora amici dell'Aisman caloroso abbraccio da lui che ha fatto lei che ti chiami Giovanna da Giovanna e Jasmine a quello in carne ed ossa eccolo qua un grande saluto e un abbraccio ciao ciao grazie 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 la pasta da mangiare questa pasta qua e dove è la pasta? è fatta la stessa per noi questa è questa qua sono liguri ah che c'è pasta? i corsetti i corsetti i corsetti i corsetti da mangiare col pesto sono del 500 quelli sono del 500 sono del 500 ci siete? allora stasera mangiare oh lei va dalla perché l'ho portata dietro nel frigo non mi piace mi dico ho portato anche la bandiera ha fatto perché ha fatto anche la regalo Zena grazie Zena è la dedica eh è la bandiera è la bandiera di San Giorgio minchia i taralli e l'olio è qui i taralli i taralli vai con il tarallismo vai minchia siamo fini i taralli grazie i taralli grazie i taralli grazie a tutti le banane anche a me che fanno i banali? sono banane di gallina si chiamano le banane di gallina banane di gallina? si si ragazzi beccatevi le banane di gallina è un dolce che io non conoscevo poi questo è un figlio del mio amico grazie banane di gallina lui è stascio di Alex e lui è Dario è il mio femmino del numero Dario dove sta Alex? dove sta Alex? dove sta? dove sta? dove sta? dove sta? ha detto mi dò sto scappato